Right product, right price, right people, right now. Wema, the right place. Wema, con special patata, tengo dia 21 di juni. Con cada compra di 25 florini, potrai ricevere un cupon per partecipare del nostro sorteo con il tuo lugar dia 22 di juni. Na cada una di nostre 4 tiendas, noi siamo 3 premios di nostre showroom. Torgi e domingos, no sabrini, 9 ore di manita, 1 ore di mardia, no Santa Cruz e Boulevard. Wema, no sabi, paqueda.